Dai Sette Colli ai Sette Passi, come nasce questo progetto? Allora è un progetto a cui io sto pensando da diversi anni, sono circa 2-3 anni come in mente di fare un giro del mondo in bicicletta. In particolare l'idea dei Sette Colli e dei Sette Passi mi è venuta per unire anche la passione della montagna che abbiamo sia io che Simona. Quindi siamo alpinisti, arrampicatori, ci piace fare trekking in montagna e quindi abbiamo pensato di unire queste due passioni per un giro del mondo partendo da Roma e facendo i sette passi di montagna più alti del mondo, uno per ogni continente considerando la suddivisione fra America del Nord, America del Sud, Europa Orientale e Europa Occidentale. Qual è lo scopo con cui nasce questo progetto? Nel senso che ho letto che voi devolverete dei fondi a una ONG americana, giusto? Sì esatto, allora l'impresa sportiva è quella dei sette passi del giro del mondo attraversando i sette passi più alti. Però non è solamente un'impresa sportiva questo viaggio ma ci sono tre obiettivi principali. Il primo è forse quello più banale perché è un obiettivo ambientale, è immediato associare la bicicletta a un concetto di ecosostenibilità. Il secondo obiettivo, non meno importante, è l'obiettivo solidale per cui noi faremo una raccolta fondi per la World Bicycle Relief che è una ONG americana che si occupa di distribuire biciclette nei paesi del terzo mondo per migliorarne la loro qualità di vita, per accrescere le loro possibilità di crescita economica e quindi noi attraverso il sito raccoglieremo fondi per loro. E la terza è un obiettivo sociale, chiamiamolo così, perché siamo ambasciatori del Decalogo del Turismo Responsabile grazie all'ITR, l'Associazione del Turismo Responsabile, che ci ha dato il patrocino per questo viaggio. Cos'è che non può mancare nella tua bicicletta contenuto nelle sacche? Qualche cosa di un portafortuna? Da quando ho cominciato a viaggiare in montagna, in bicicletta, nelle sacche ci sono sempre tre palline con cui faccio giocoteria e con quelle non potrei non partire.